Dopo la nomina del governatore d'Abruzzo D'Alfonso, nel corso dell'ufficializzazione delle deleghe della sua nuova giunta, Mario Mazzocca si era preso una settimana di tempo per accettare l'incarico di sottosegretario, in quella che è stata definita la crisi di maggioranza. La titubanza del rappresentante di SEL era legata al timore di perdere deleghe importanti, come quella all'ambiente che era valsa a tante battaglie tuttora aperte, come quella ad esempio della petrolizzazione. E dopo un'assemblea regionale tenutasi ieri, oggi Mario Mazzocca è pronto ad accettare l'incarico. Abbiamo verificato attraverso un confronto con la maggioranza e con il presidente D'Alfonso i temi su cui ci andremo comunque a sottolineare le nostre prerogative e su cui saremo presenti, temi che riguardano massimamente il modello di sviluppo improntato a criteri di reale sostenibilità. Se è vero che l'incarico di sottosegretario di fatto risulta più blasonato di quello di assessore regionale, in effetti Mazzocca sarà escluso dalle votazioni di giunta, motivo per cui ha tanto esitato nell'accettare quell'incarico. Ed ecco perché oggi fa sapere, insieme ai rappresentanti regionali SEL, che a scopo di tutelare lavoro e responsabilità sulle tante problematiche aperte, tra sei mesi verrà sottoposto a verifica l'operato regionale, con una grande conferenza politico-programmatica con forze sociali ed elettori. Dalla difesa dell'Adriatico, dalle trivellazioni, alle arre protette, alle energie da fonti rinnovabili, fino ad arrivare a temi di carattere più generale come il lavoro e la sanità. Ecco, su questo noi opereremo un controllo serrato nel corso di questi mesi. Alla fine di questo semestre faremo una nostra conferenza programmatica per verificare lo stato dell'arte delle cose. I rapporti con il governatore in questo momento come si possono definire? Ottimi. Grazie.